inizio sta iniziando ok ciao a tutti vi saluto a tutti una live su brohan avrei voluto fare fortnite ma il mouse si è scaricato che sfiga eh ma perchè gioca a brohan la puoi giocare con me oh quello che volevo sapere di Fortnite ti panno comunque ti saluto ma scambi utenti si sono tornato ma da domani torno in video della vita quelli che ti spiegano le cose della vita c'è ormai 2 mila anni e max 12 guarda che ho la stanza create private easy random easy all fatto andiamo ciao amici giudas ok dopo ma perchè vi ho abbandonato sono stato in gita sono in live ok ok l'ho già fatto si io ho insta uno che vuole entrare se lo aggiungo i bot volete online ma come che la vi dimanda se voi non venite a giocare beh è ovvio ciao è il club Nicola questi vabbè gioco con i bot vi ripeto tu dici che l'hai di me io avrei giocato a Fortnite se non fosse per il mouse mi sei scaricato oh con la scrivetta ok non ho neanche letto il nome il nome ed ecco ecco core control attoriza io qua sto giocando con comunque i gamepad quindi non sarà la mia migliore performance Oh, bata! Oh, bata di mine! Doi, Yu, Yu, Yu! Vive los pangs! Oh! Oh, okay! Oh, c'est un bot! Oh, c'est un bot! Oh, c'est un bot! Eh, et moi, les aïe, ah! Oh, c'est un bot! 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 no rando maestro ciao sono nella sua live non so se chi si sente a te ah non lo sai ma non so se aspetti guardo ora se si sente ok beh nel tempo io sto giocando con tempo che si è scaricato il mouse si mi sento comunque devo giocare con il gamepad ci rendiamo conto eeeh non per dire c'è un pro player qua e allora è da togliere eh si è da bannare se è troppo forte noi siamo dei nabbi siamo dei nabbi ti devi da bannare soprattutto nocivo è meglio un bot che da quando ci scelgo oh dai metti questo random vediamo come sta andando la live cioè lui chiede se può venire se poi intanto si risponde da solo ci rendiamo conto plus dice posso venire ma si risponde da solo perché intanto da solo vaga non c'è la mia uscita allora i bot chi è eh 3 2 1 brawl e qui noi mi sembra ok ok attacchi no no ma come funziona questo no via schifo via oh guarda come ha ok ok e dove no poi ieri 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 abituato a ma fornit puoi giocare solo con testi e adesso vuole giochiamo fortuna e dopo si ma c'è ma l'ansia scarico ieri 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 è brutto per città se 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 non non ho detto che ieri 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 però pure lei maestro usare al caso a cubo ieri 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 alleiamo ieri 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 ma forse prima è meglio che ieri 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 questo è rapo il punto ho lasciato l'arma non fa schifo, e questo mi piace oh qui l'hai, per che attacchi sono? usa le hack come tu che mi compiccio domine i piedi ero parto sti questo personaggio che la tua due vite io una quindi ma non vuol dire nulla si vuol dire questo gioco le vite contano chi ha più vite vince già tu sai bene scusa bene allora io ragazzo ragazzi se non è lì ci facciamo anche una parte forte vita forte vita non vuoi morire che cosa vuol dire ho una vita ma certo ho perso io ho una vita rossa non è detta Lucio ma tu l'ammetti che vuoi fare è bella questa rossa no a me non piace ma ci ho anche mancato qualcosa di bello l'ha lanciata ci ho mancato oh 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 meglio scappa ho un'arma bella non c'è vabbè allora ovvio che io perdevo vabbè secondo noi tecnici vediamo quella schifo possiamo giocare insieme il mio personaggio preferito è Sulla ma sei un pro player per caso tu perché sei un pro player ah sei proprio un cibo tu E poi proviamo Voglio vedere in quanto perdiamo Stai io a provare un personaggio Scegliamoci un personaggio che si Cosa? Io mi scelgo Quella con la Prax ha chiesto di Farci una chiamata vocale insieme No, non ce lo voglio Ti sta scrivendo anche nel Ma le discreste Io ti ho avviato la certa vocale Sì, ma... e poi lo chiuso gli scordi Quindi Dai, scegli gli personaggi Gli asti Allora, se non c'è il passaggio Allora, non si può scegliere Dai, un personaggio Uso lo spamma lupo Ah Livello quasi due, dai Eh Uh, lui è solo una volta No, corre, è uscito Eh, non c'è un problema Random, ma è riuscito Anche a te L'Italian, che fortuna È vero No, ma cos'è questa map piccola? Adesso che io ho messo all Spamma lupo Qua c'è uno qua cosa spammato No Uh, questo era quello Con la mossa infana Ma ancora quel lupo Invece tantissimo Un bel lupo A me piace Adam per questo Il pistola Ma ora, il lupo è strabello Non pensare Sì, è bello Perché spamma No, ma come ti va a spammarmi questa mostra? Ma 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 è troppo potente con la roba Uh È vero L'ho lottato anch'io Cos'è? È tanto forte Cioè se stai spammarlo far bene Di sapere Spammare bene Eh, in realtà Si spammare devi saperlo fare Perché? Cioè anche per spammare devi essere bravo Eh, in realtà si Chissà qual'è la seconda arma Oh, riesci a... Gattino Un po' ho capito Oh, eccolo qua Il gattino Ma è troppo morto Shutdown Ma cos'è? Ma cos'è? Il bastone non fa niente Fa schifo il bastone in questo gioco Aia Heeeh Shutdown Quanto bello è quando dice Shutdown Shot Oh, ma Oh Oh Il gattino è bast... Vabbè, già il gattino è pro player in realtà Il giocatore che usa il gattino è uno dei due proprio Uccidiamo il gattino Uccidiamo il gattino Uccidiamo il gattino Adesso sto mostro tanto il lupo Ammazzare il gattino No, il gattino sta esagerando Giù Lo azzare il gattino è freddo E' vero Lo azzare il gatto Lo azzare il gattino è un gattino esagerare il gattino è un otto fanno con fuoco staccato il numero alleiamoci maestro da un fortale no no io non so beh adami piace bravo spazio che sono 846 vediamo magari all'anno se voi poi facciamo 9 e 10 dipende quanto ci sapete poi pranzo basta guardare chat di sta facendo il modello seggio non stava giocata la mia chat di youtube al posto di giocare gattino eh va bene allora vabbè non messia netto un attacco potenziato vediamo con l'attacco che c'è la famiglia un attacco che c'è già potente cosa si usa un pollo aria se ne si non so se bel congipro non voglio piace il lui è forte un po ma io provo due volte chi sul io provo spammalupo lo spammalupo dove è finito quel gioco poco uh che strano c'è la sua città artemis insano no che mappone no poi dopo quando finiamo di fare la partita io metto solo l'impostazione l'impostazione che ho la ok ok no no sì è il momento dello spammalupo non ancora no arriverà l'anima ma è troppo potente uscola per l'aspetto del mondo testo marco ma lento se non dove Dopo lo bagniamo dai Così per divertirci Maestro lei è abbastanza malvato Beh beh con cazzo sì Mamma mia A rimbalzo Ma lo fanno Sì ma questa mappa fa schifo È vero Sì abbastanza Ma bravo sto giocando Ah tipo l'ho lasciato Oh quello Ah Potremmo vincere così Ah è disconnected Oh ma guarda che bot Non scherza Che bot è questo Yeah o ci cerca i bot Io so se c'è quando decidere si botta Perché adesso è botta alla fine sono due giusto No è uno Eh no perché plus mi ha fatto un messaggio prima no No è entrato quello pro player Eh caia Ma sì ma questo messaggio plus è disconnected Ma è soltanto un bot E quindi se si disconnecte Sì diventa un bot Ah questa mi piaciuto il corso di moto Vabbè Oh caierino Oh caierino Shutdown Schiamo Prodotto nocivo L'utente Ah ma ma come fai me dai nomi con i joystick? Con select Ah è vero Tutto le città In teoria adesso ho inventato Ammazziamo tutto locivo Oh ma Non mi lascia Ah vai Tu al dito Oh È ancora morto eh C'è una cosa brutta Nel tuo profilo C'è una cosa brutta Sì Come si fa le mosse speciali? Spamia ma spamia Oh guarda questo taglia No Devemmo aver tutti la stessa vita Prima o finale No In quel momento tu sei apparso Quando stavo colpendo caia No Ah comunque Queste mosse che ti afferano Oh non vuole morire caia Oh basta Oh caia Ammazzati per il maestro Ammazzati per il maestro E basta Ma se è un cancro eh Comunque era lentissimo l'altro Cioè il personaggio che usato Troppo lento Ti bagniamo mi dispiace Usa le hack Usi le hack E' vero Puoi essere un sforzo Abbi paura di quella mosse che ti affatto Cioè Poi ha usato il mostro di ghiaccio Bello ma non troppo Ah tu sei renderti il capo Ho sbagliato Bursante Puoi mettere map Big Ah? Puoi mettere map Big Ah sai che non lo so Perché io non Ah perché Fai Isilon Adesso sa cosa faccio Cioè c'è prodotto nocivo E' abbastanza Meno buono Il problema è che sei iniziato tu il capo e la stanza Perché per sbaglio sono uscito No non si aspetta Eh prodotto nocivo esci Esci C'è una nuova Che favola sa se c'è Allora il nome non importa ma se sapete il numero Vabbè facendo una cosa Inche voglio una nuova Qua c'è il figlio No entra entra maestro E' uscito E' malattata all'unicato non sarei io il capo Ah si sarebbe dai caporo E' quale è il numero Basta che entri negli amici dove ci sono io E' fatto join E' fatto infatti Soltà Sistemiamo questa cosa che avete combinato Vite Map Big Poi controlliamo se avete messo random Ok C'è solo ma devo attaccare qua E' così che se non brilla Maestro è contento che il 25 si sta a casa Ovvio E' anche contento che il primo e il 30 si stia a casa E' un certo molino blu Beh è diventato prodotto nocivo Vabbè dai molino blu non è troppo forte Sì ma io devo riprendere la media Nooo è nella media E' nella media Usiamo ADA Oh boh se lo chiuso ADA Valle viola E' strafigo Oh una mappa grande Perchè siamo tutti in una sassonata Eh non lo so Dove lo capire il prodotto nocivo è Alieno lì strano C'è una bella E tu mi piace Bombello Io vorrei perdermi il quattro Basta un gioco il bollo Oh mi lasciate per le labbra anche tu Sì ma sono sempre proprio spacco Mamma 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 Io sono qua Non mi mette molto Perchè io l'avevo Ho messo la vita perchè per me non ha Ho perso tutta la vita Ah no chi è questo viola Ho chiesto il viola Perchè io sono nocivo No tu sei da bannare No Ah è stato proprio che fa questo Eh vedo uno L'attacco con l'acqua E' la sua spandella Ma come ha fatto a prendermi al volo Che fattivano tutti i giocatori bispi Ma come ha fatto a prendermi al volo Vodovano dice che da gioco Vodovano dovrebbe essere scarto Guarda come è stato A livello 3 dovrebbe essere scarto Oh Ma è stato secondo me è stato secondo profitto questo Che senso altro Eh ma per forza di essere deboli Ma non vuoi smettere Provo viola lì Ma attacca se non è guarda lo schifo E lo banno Ma non è che bordo Ma non è che bordo Scherzo eh Noi cosa vuole Sì cosa vuole Vuoi scommettere Ehm no A voi scommettere che la faccio fuori solo con i puni maestro Però la mia Basta Arte qualcosa No maestro La vendicherò Questo è difficile No Baudovar Se sei un vero uomo Sui cittadini hai ammazzato il maestro Doveva rimanere lì in finale Oh fuck Non si chiede Non so se lo bannerei Io lo bannerei Qua un fa scommettere Io non so cosa è Perché io non so seguire Non so se lo faccio fuori io Non so se lo faccio fuori io Per vendicarlo Io vado a scommettere Bisogna Scusate Scusate Gum Gum Da poco c'è la parte A maestro A tutto Arrivederci No ma Co ste vuole Pando muori Aspetta Scusate Da Scusate Scusate ma continuo a saltare questo cancro ecco ma basta ah che bello ah che bello che cancro vabbè io dico di no banano maestro io lo banerei tanto adesso noi al momento chiamo più cola cambiamo gioco si cambiamo gioco non so come giocherò con il joystick che sarà molto più difficile ah non importa maestro adesso lo si sta prendendo andiamo sulla schermata chiamata fortnite quando si apre lo vedrete tutto è come se fare tutto è impossibile non per dire ok cambiamo il gioco se lo dice non cambia il tutorial mentre cambia miniatura si è aperto il gioco? si anche lo sto aprendo adesso si avvia e gioco sai tu devi stare attento che io ho delle tecniche strane eh ah bene maestro ma giochiamo in duo o chiamiamo qualcun altro no in duo in duo facciamo in duo si io la tecnica nuova che ho scoperto mi dispiace ma con me non andrei mai più nelle città nelle città basta c'è proprio andata copia le tecniche ultra tecniche del maestro ah tu sei già no b b b b b b no e la grafica ma che grafica ha messo puoi mostracci sui siti maestro perchè? puoi mostracci non ho sbagliato non ho sbagliato sto sbagliando tutti i pulsanti eh allora video ecco qui puoi mostracci sui siti maestro aspetta che si sta facendo le esecuzioni in corso un attimo non so da quando mi cagli ancora disse riusciamo a fa niente ok ciao giovane la la come si chiede di fare la la vabbè ho invitato il mio amico allora facciamo squadra oh mi senti almeno ah ok facciamo squadra ok si sente l'audio ok ok adesso si sta aprendo un attimo adesso arrivo allora si bello audio audio l'audio 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 non è uscito perchè perchè perchè? aspetta puoi dire all'altro che abbassare un po' il volume mi sento di sanno sul cazzo perchè ci stanno sul cazzo? boh c'è nazi boh c'è prac ma ti prego mi lasci uno vabbè plus c'è volte anche io mi sto di patrick si siamo in quattro c'è un po' quel carattere no stiamo sparando con uno che dice che gli stava è uscito da questo gruppo che gli stava antipatico che è stato fatto? a nazi a nazi non l'ho più sentito eh nazi neppure io io lo senti tutto tipo una settimana fa lo senti? allora tu hai aperto mi stavo solo sul cazzo mi stavo solo sul cazzo perchè ho il mio nome non me lo ricordo la metto ah ma va schierami a me mi chiamo domini che fu showgame 01 no 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 domini sì infatti eccolo la il nome dai domini che lo vedi anche in live il nome si 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 appunto sono anche la live perchè domini che eh perchè io per c'è della play è nato tutto il mio nome è nato di il suo nome domini quando giocavo la play è nato il mio nome comunque presto anche per voi voi andate nella città pure io vado nella città dell'ina piccole minuscole ah no io non entro nei tre gruppi che mi inviti tu già perchè sei tu il capo e non mi piace dominic si? e sto aspettando il mio amico mi hai inviato la richiesta? ma sì 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 ecco sono dentro ecco è battaglia reale mi ha fatto l'audio di fornite si l'audio di fornite si l'audio di fornite ma vediamo le missioni che c'ho percato che devo giocare a shadow file sei tu si sono io ok adesso ti cerco nella lista delle richieste amicissie accetta mamma mia che onore percato shadow file dove sei si chiama fornite eccoti qua invita nel gruppo io non so gli anni intanto ti dico che quando me vedrai online su fornite chiunque mi vede online su fornite io tento di invitarlo ragazzi non potete mai entrare direttamente perchè io ho messo una cosa nooo c'è doppio audio maestro se si sente doppio audio eeeh pagliamo la che ci sia l'audio di corda allora pagliamo la qua se non oh giaco donna tubo ok che è questo qua no io però ho un'amica ah ok siamo pronti no 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 non sai così dai team best team non faccio il meditore anche io le facciamo tutte le skin diverse eh ma io non sono pro con le skin vabbè io sono al massimo però con chi non ho il tuo skin ma tu non c'hai neanche le skin visto che sei un freddo eh appunto cioè ma perchè non gioco mai forne in gioco da l'altro io mi sta ultimamente piacendo io dovuto tornare ultimamente perché vado da pochi giorni da questo tipo di youtube adattare mille iscritti non è al massimo no allora passa per di qua devo andare nei paesini devo andare nei paesini devo passare nei paesini dove non allora come ha detto lo youtuber non si deve passare nelle città con il nome quindi parlo si sono da un tubo dai chi è show game 0 1 cosa dai chi è show game 0 1 chi è chi è eh un maestro eretto 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 ah questo è un eretico secondo me ah questa è un eretto 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 io devo andare nei paesini piccoli senza nome no maestro perchè si è buttato da solo eretto 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 guarda là ci sono due case senza nome che bello qua di solito non passa nessuno non passa nessuno non passa nessuno per la casa se sono una cosa per esempio ciao ciao non so non è un'altra youtube cosa c'è qua cosa c'è qua cosa c'è qua non no mi trovo lo scar qua nella cassa uve ok che mi sta rubando oh questa casa è mia oh vattene via su no vabbè ho trovato lo scar mi ci voglio credo lo scar verde lo scar verde io uno esplosivo quindi la tecnica stava mettersina ho trovato la bomba ballerina allora beviamoci oscuro allora primo posto fu giro assalto secondo pompa terzo come che sia per inventario così ma che almeno il fucile d'assalto dominic io ce l'ho fucile no si deve chiamare maestro sai che il fucile che ha lei maestro sai che il fucile che ha lei è lo scar ma io non ce l'ho uno scar magari se ci avessi no 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 ha lo stesso nome dello scar che non ci ha fatto ah io mi chiamo scar ok no non ha capito l'arma che ha trovato il fucile d'assalto non so di cui colore ma io non ho trovato il fucile d'assalto ha lo stesso nome dello scar ma questo tu non ho ancora capito che non ho trovato il fucile d'assalto non ho trovato il fucile d'assalto non ho trovato la metà non ho trovato il fucile d'assalto ma è capito ma scusi 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 eretico il freddo e le tigone pulsante quello dietro no 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 ho giocato dal pc a parte gioco no si ho un'altra persona scusa adesso te l'altro scar adesso te l'altro scar quale fucile d'assalto di che color blu ecco allora anche te sei la storia dello scar ho dato un buce da caccia io in metà la storia non lo so so solo che si chiama scar è bassa si è lo santo lo scar ho un'arma da nabbo ok adesso devo andare verso più avanti prendiamo adesso prende il fucile a pompa in mano no maestro c'è poi si scappa via io sto andando adesso oh si io sento l'umore io sento l'umore non tanto bene ho sentito l'umore grazie lo sei bella sei morto come per colpire gli spari sei morto per spari l'umore si è da dietro dai ma quella maniera mia lorna 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 mia lorna 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 grazie lorna lorna ho soltanto un po' un po' ok lorna 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 messo bene come diceva la youtube che si deve tenere l'inventare il suo no è un problema vuoi il blabalestra tanto lorna 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 quella balestra lorna l'avensura lorna 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 la silenzialarla ok lei ho 82 di legno g oda lorna 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 112 di legno dai per questo padre solo sopra solo posso devo distruggere un po' di alberi quanti siamo i bimbi? ok 150 ancora la palestra accorda con quale arma mi conviene... oh come ho la mia italietta dove ho dato il mio metricit? avevo metricit ho perso metricit che bello voglio parlare intanto la vasta maestro salemento è stato giuro non si chiamava la resta giorgi di chiesa salutarla ciao a me se la regione io un problema io ho il mio amore l'orme l'orme sono fuori dal sito anche di tanto è un problema ho perso ho perso in merito per se non è un problema dobbiamo scappare veloce no maestro ho perso il medico non so più dove comunque mettiamoci a posto un po' di mentale qua questo qua e questo bu via via la lascio lì lunga li sono quasi dentro la safe è in camera mi sa io senti in camera un lama un lama un lama un lama in fondo un lama in fondo no che benessere minghiate un lama c'è un lama farà però ci dividiamo le cose non è che non prendere subito tutte le cose ce ne faccio una cosa qualcosa di utile aspetta non prenderle subito stai a capito aspetta non prendere subito poi lo sai questo mi prendo all'inizio un pollo ok ehm vabbè allora cioè dai perfetto andiamo un po' albergo di unizio per l'assalto trattati di vivere subito per l'assalto anche lei è come se sto giocando giocatore si intende da condividere c'è un po' di vita gli animali armi del ciclone e come sei io sono giocati in giocatore il servizio non è lì o migliorare la carta giocatore aspetta in su cui è un esplosivo io sono qua sono qua il caso di un gioco acqua grazie ma anche se non c'è un'altra cosa mi cominciamo se la caccia ce l'ho al posto di cosa la lascia cos'hai cazzo tu è l'opera di seguito ma si fa niente per la scelta noi siamo già nella metà quindi la mente come si chiama come la chiamata la cup made si comunque però ringrazio mi per aver trovato le regi cedì l'uomo o un minchia e mi chiamano che vuoi vedere i materiali ai ragazzi no non ho voluto è scomparsa metodice non c'è più da un'altra parte che è vero per questo testo questo è la brutta cosa il mistero e finire bene da dove? dietro, ecco lì, su da destra su da destra oh non si capisce di dove non voglio faltare, io quando tu gli sei non voglio faltare ok, dove, dove, dove maestro, scappi non ha senso, oppure se la ciotretta che nabata raga che partita da nabbo no, cosa ho fatto? mi ha razzita da nabbo da dove? schiena dammi te una cucina pinnacoli oh ma mi hanno colpito non si capisce già da dove mi colpivano ma come se sono permessi di ammazzare il grande esponente oh mi ha fatto tutto oh mi devi darmi anche un pochino di canate vediamo cosa dicono gli iscritti già con, ma, con è difficile comunque con i giorni si che gioca che mi dai un medicit ok io aspettavo quando il mio amico mi invia il suo mouse è un mouse da figlio quindi non si scaricherà mai e poi un mouse che posso diminuire e aumentare il dpi ok dai, let's go, let's go il mio telefono dove? un bel mouse noi mi telefono così mi ha fatto il momento musica andiamo a scappare perchè la sift toglierà 2 di si mi sembra che tolga 2 ok dai scappa scappa eccola qua e tu hai delle risorse per tante risorse Lorne cosa? oh Lorne che cazzo vai mi saltare anche a me insieme che cazzo ma che è che mi stanno mettendo su un'uso il maestro ma ma è la scappa ma è la mia stanza non 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 so che non c'è niente voglio farlo uno scopo casuale ora hai il quale fucile da caccia ora fucile da caccia sì certo passa in cambio di chi può mi puoi essere che emozioni oh quante ne vuoi circa ieri ma come ne quindi gli occhi ok adesso facevo una cosa dai 2 ok dai ok Illi ok Yali si lo sia dai dai ci siamo dai dai ci siamo le due Lascia la anche tu Invita Aspetta 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 che ne fate bolla La metto Non ho niente da dimostrarti Non ho niente da dimostrarti Scusa ma la miglior difesa per me Coppa Entri Ti invitato Ok aspetta andate Io voglio andare a prendere pile per vedere se sono caricato Perchè se si Interessante maestro Maestro Rerò Nella ciotola Nella ciotola Nella ciotola Mi ha chiesto di forza salutare uno schermo di DIG Io Attacchi male p Dimmi che è carico Dai più o meno Magari una partita bella posso fare Vabbè mettiamo quella giochi che ci fai schifo Nel frattempo mettiamo questa Nell'acqua ne ho fatti tanti che ho fatto a piedi Ho tantico e va bene Sto bene Fra di noi ci un cadere poi cadere Fare sbagli ci viene solo insieme Questo mondo E metti pronta Quando piangono mi vedi ma rimango in piedi Con gli occhi puntati su quei vetri Un telescopio a casa guardo sempre sui vetri Ah vedi erano gli altri che facevano Il caricamento bene Nella mia testa c'è una tempesta Sbaglio a questo temporale Sbaglio a chiamare Sbaglio a chiamare Niente da fare Lasciami stare tutto normale Non c'è questa Federica carta Ma ci sono un po' di spettatori qua maestro Eh perché sei la sai Ehm effetti e poi è anche lunedì E poi lunedì Poi lunedì Poi domani ancora peggio Per me No ma secondo me non è peggio Perché domani c'è a merito di questa cosa Sbaglio a domani solo perché cosa c'è domani Ah no Ah 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 Ok Oltre a te io dico sempre la strategia mia Casette Caliretete piccola Città senza nomi Me l'ha detto uno youtuber Questa strategia Ma nemmeno posso con più di una casetta almeno Sì Potrebbe andare nella discarica Ma quella poi è vero che non ha nome Ma c'è stata gente poi Qua io vabbè Dall'alto vedo poco Vabbè io mi butto da qua E poi vado Non si è buttato Non pensare Vabbè vediamo qui ci sono le casette Tu attenei questa Sì sì questo può Facciamo Anche quante casette ci sono qua Sperduta La gente Valuta male a questi possi Io sto scendendo in uno che c'è una casa Da qui sto vedendo che c'è la casa Sperduta La vattaggiette stagiamo No No Stato Stato parlando un più rimesso Stato parlando un più di messaggi Eccola qui Una Un'arma epica trovata Allora Questo cosa che già faceva Ah Scudo e cose completi Ma la Eh ma ci vuole 14 secondi S Eh sì Una Un'arma Che Ma ci sono In realtà Stato In realtà Un'arma 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 da questo un testo io sono devo scendere ma scendolo eeeh piano piano tutto al mondo per scendere ah non funziona questo metodo il metodo di scendere e metterti una costruzione sotto a meno qua c'è una casa coso delle munizioni che bello servirebbe magari se il gioco c'ha voglia un'arma sai non farebbe male giusto comunque siamo quasi già nella top 50 senza fare niente ottimo tu sei arrivato qua dove sei tu ah sei lontanissima eeeh scend sento io la è bene prendo assi munizioni un cartellismo sputtaggi sopra allora io devo organizzare un'altra cosa qua 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 se vede un'esplosiva ma adesso devo cambiare scritto video cosa mi considerate comportamenti ah io sono molto spedio questi cosa eh perchè io ero intenzionato a prendermi la 1050 però non superi si cambiano materiale ok ah attenzione per fuggia pompa se non è così già cazzo la 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 bomba ma se viene solo se io sarebbe comodo anzi io ecco di ciò tocco filo vanno togli esplosivi posso prendere anche l'italia silenzio come ah non mi sono accorto di essere al massimo di scuro tutto mi sento io mi sento io io tolgo la vita dietro e prendo gli scudini posso sempre servire le scudini sono utili e' vero che io c'entro di vita c'è se arrivano i nemici si possono servire per ieri come se non guarda la pop 38 se in effetti istruggiamo un periodo per ora se abbiamo bisogno di molto legno ok diciamolo io ho 200 di legno non è vero 5 lì si sta anche un camion cos'è guarda la voce ma se lo scolico lo prendo ok ok intanto è andare in quale è andare dove sei tu praticamente in là questi sassi li distruggiamo da dove oh shado ti ando qua curare sto morendo 0 dai è se io non qui è quello che vuoi che non posso che ne ho fatto in tempo ma le quali vedi già ha detto è coperto troppo bene e vabbè poveri dalle buco sono passate dove tu non hai chiuso erano visto perchè ero troppo il fatto di vedere o mai io non ho visto neanche dove mi hanno colpito erano davanti io ho visto che mi hanno fatto subito ucciso c'è amusa con un colpo con un colpo headshot c'è un saluto maestro ma quando usano cioè non ci sono altre spiegazioni spettacolo che non mi parla se vuole solo che togliermo giocato con il giro o cosa dite la bocca si sono sfortunato ma cosa no uno scrive un album sono sfortunato mi dico di togliermi si dipende se mio accanto non mi hanno comprato no non mi hanno ancora comprato ehm che insomma spettacolo nel tempo per far partire la partita voglio vedere che scala sfide c'è vabbè sono 9 e 29 quanto è durata la live un'ora ok possiamo terminarla te l'ho messo tutto ehm ok ok